Si dice pronta a fare una denuncia ai carabinieri se il suo problema non verrà risolto immediatamente. A parlare così è una giovane mamma che abita con il suo bambino piccolo nel progetto case di Cese di Preturo. Da 15 giorni le tubature esterne sono otturate, così liquami di fogna arrivano addirittura dentro casa, creando un odore che si può immaginare. La giovane donna si è arrecata all'ufficio manutenzione del comune che però non ha provveduto racconta a sistemare le cose. Neanche quando si è arrecata di persona per farsi sentire le cose sono cambiate. Il risultato è che i tubi della lavastoviglie e gli scarichi della doccia del lavandino della cucina sono completamente otturati dall'ora. La donna è stata costretta a chiamare un'idraulica a caso del rimpallo di irresponsabilità e competenze a sue spese che le ha confermato però che il problema proviene dall'esterno e nonostante il consiglio dell'ufficio comunale di usare un liquido particolare la problematica non ha avuto risoluzione nonostante le sue insistenze perché a casa appunto c'è un bambino piccolo. I due sono costretti ogni giorno ad avere disagi e a respirare fluvi di fognatura. Tra l'altro a causa dei continui allagamenti del pavimento questo è completamente rovinato. Alla donna il comune avrebbe detto che gli scarichi non sono di loro competenza mentre invece l'idraulico di fiducia avrebbe rimandato a loro il problema essendo necessario un intervento esterno. La certezza è che la signora da tempo è costretta a lavare cibo e stoviglie nella doccia del bagno in condizioni igieniche assolutamente negative. Adesso sono veramente arrabbiata e delusa da quella che dovrebbe essere un'amministrazione pubblica che gestisce degli allorgi in cui ci troviamo perché le nostre case sono ancora inagibili dal 2009 ha detto e alla quale io ho sempre pagato tutto il dovuto.